In Italia il reddito medio ha subito una diminuzione di circa 2.400 euro rispetto al 2007 arrivando a un livello di 16.200 euro pro capite nel 2012. Si tratta di una delle riduzioni in termini reali più significative nell'eurozona. In media la diminuzione nei redditi nei paesi è pari a 1.100 euro. Tutto questo riflette il deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro per tutte le fasce della popolazione, i giovani in particolare. Con un livello del 55%, la percentuale di persone in età lavorativa occupate è la quarta più bassa tra i 34 paesi dell'Ocse.